Sono Valentina Porto della libreria Valomer di Bergamo e per l'estate 2017 consiglio di leggere Last Days of California di Mary Miller che è il primo romanzo di questa autrice americana che racconta questo viaggio on the road tra le strade dell'America più profonda ed è anche un romanzo di formazione e una storia di queste due sorelle, il loro passaggio dall'età dell'adolescenza all'età adulta. Poi ci aggiungerei la lettura o la rilettura di un classico e consiglio Furore di Steinbeck che è un monumento all'America, anche questo per cui indispensabile.